Mi chiedi perché di questa lettera a Francesco non è una stranezza, io molto spesso utilizzo il mezzo della scrittura per comunicare con Francesco, scrivo spesso a Francesco, è un modo per sentirmi ancora più vicino a lui, anche se io ce l'ho sempre accanto ed è sempre con me. Ho scritto a Francesco, è un modo per questa volta ho parlato di pensieri, cosa che però faccio molto spesso. Spero che anzi ne ho la certezza e ne ho la convinzione che la morte di Francesco non sarà vana e che aiuterà gli uomini onesti di questa terra a riprendere la propria dignità in mano e ad andare avanti.